bella tutti i free readers oggi parleremo di quello che è accaduto in questi giorni avete visto abbiamo aspettato il termine della conferenza per esprimere anche un parere un giudizio per quanto possiamo ovviamente la nostra definizione di associazione di consumatori che segue quotidianamente il tema inerente tutte le sostanze stupefacenti noi ci definiamo antiproibizionisti quindi siamo contro la proibizione siamo per la consapevolezza per l'autogestione per delle normative giuste incardinate delle tutele delle libertà personali per le libere scelte per la libertà di cura quindi delle situazioni che ovviamente coinvolgono tutte le sostanze stupefacenti e tutte le condotte dell'essere umano siamo per l'autodeterminazione in modo molto semplice però incardinata in delle normative chiare perché siamo anche per lo stato di diritto per una democrazia giusta ed equa e quindi in poche parole senza andare a tirar fuori questa filosofia politica siamo di fatto per una nuova normativa che vada a regolamentare le sostanze soprattutto l'uso personale poi chiaramente ogni sostanza deve essere determinata in modo dei suoi danni problemi favori positività eccetera eccetera e questo ci mancherebbe ed è per questo che infatti per esempio sostanze come il caffè e nicotina hanno già delle normative e infatti la cannabis dovrebbe avere secondo noi una sua normativa specifica infatti in questi anni di attivismo abbiamo proposto insieme alla collaborazione con diverse associazioni realtà territoriali aziende e attivisti abbiamo proposto un manifesto collettivo frutto di una sintesi di un lavoro sociale e sul territorio con le persone che volessero e avrebbero voluto una nuova normativa e che hanno proposto le loro idee i riunioni incontri fiere nel corso degli anni si è sviluppata questa normativa che abbiamo messo poi ai voti online eccetera eccetera anche confronto pubblico e si è scelta questa definizione con dei paletti precisi la coltivazione ad uso personale il mercato libero con delle normative specifiche che tutelino il consumatore il produttore e lo stato e soprattutto che contrastino le narcomafie e un avanzamento sul piano dell'uso medico e quindi questi tre pilastri fondamentali ovviamente garantito tutto questo il consumo personale chiaramente insieme all'autoproduzione ecco abbiamo visto diverse avversità nel portare avanti questa liberalizzazione perché di fatto a livello di politica è una liberalizzazione si tratta di liberalizzare il consumo e la produzione e la distribuzione ossia mettere delle normative che delimitino queste situazioni ma che le rendano accessibili a tutta la cittadinanza entro certe specifiche normative per esempio c'è la liberalizzazione del pesce c'è una normativa però non è che possono venderti del pesce scaduto o il pesce senza scontrino c'è una liberalizzazione del mercato semplicemente ci sono delle normative sanitarie da rispettare noi l'abbiamo messa giù per la cannabis ma siamo ovviamente disposti ad un ampliamento di questa situazione come anche al confronto con tanti che propongono un'agenzia nazionale sulla cannabis che ci potrebbe stare essere inserita all'interno di questa idea di controllo giusto dello stato però di libero accesso ai professionisti del settore quindi con la creazione di forza lavoro di posti di lavoro che altrimenti altre disposizioni politiche ed economiche non permetterebbero per esempio il monopolio non permetterebbe l'avanzamento di nuovi posti di lavoro perché si userebbe un circuito di distribuzione già prodotto e già creato quindi pochi posti di lavoro nuovi ad esempio anche la legalizzazione dell'uso medico che c'è oggi ossia che è legalizzato come vedete se uno ha un'autorizzazione può produrre e non le hanno rilasciate nessuno praticamente le ha solo un ente quello di firenze se uno ha un'autorizzazione può usufruire della cannabis d'uso medico ma vediamo che c'è molta difficoltà nell'avere la ricetta e anche qualora ci fosse disponibilità di questo perché fortunatamente molti medici stanno lavorando su questa situazione insieme al lavoro di tante associazioni ecco allora che il prodotto non è disponibile proprio perché la produzione è limitata allora c'è l'importazione eccetera eccetera non è una liberalizzazione c'è una legalizzazione incontra dei problemi e anche il ministro dadone ha ricordato che è fondamentale una liberalizzazione su questo tema perché permetterebbe con il controllo sanitario e operativo dello stato sul livello economico con una tassazione interessante di lavorare su più piani sulla disponibilità sulla fornitura sulla certezza per il produttore e distributore e sull'incasso anche statale che in questo momento è più che altro una spesa perché vediamo che l'importazione costa molto c'è poco guadagno da parte dello stato ed è per questo che anche il concetto di legalizzazione d'uso medico non viene spinto a livello economico ma crea sempre del rimetterci dentro dei soldi quando invece potrebbe rendere molto di più per lo stato se fosse innescato un meccanismo diverso come la liberalizzazione che non è niente di pauroso non significa non avere regole non avere nulla assolutamente no significa proprio il contrario avere una normativa aperta a tutti che permetta a tutti l'accesso con delle regole specifiche molto molto chiare dedicate al settore al prodotto precise per la tutela del consumatore dello stato e anche del mercato stesso quindi questo è fondamentale da ricordare ogni volta ecco si è conclusa dunque in questi giorni dopo questa introduzione la conferenza nazionale dopo 12 anni e noi purtroppo nonostante tutto questo lavoro su attivismo in questi anni non siamo nemmeno stati considerati abbiamo mandato l'invito ma purtroppo per diverse esigenze non si poteva i posti un po chiusi insomma bisognava essere nel circuito hanno invitato altri ma dovete farvi rappresentare da qualcun altro abbiamo provato a farci rappresentare da qualcun altro ma non ha voluto portare il tema del manifesto collettivo all'interno della conferenza e nemmeno pensate nel fuori conferenza che è stato organizzato da altre associazioni in cui siamo presenti anche noi come rete che purtroppo però non siamo riusciti a presenziare fisicamente per le limitazioni non siamo riusciti ad andare ed ecco allora che nessuno ha voluto o potuto portare il tema del manifesto collettivo all'interno anche del fuori conferenza che c'è stato in questi giorni paralleli è un peccato probabilmente è un'occasione sprecata sicuramente anche da parte nostra ci spiace molto ma noi abbiamo veramente fatto il possibile più di così non riusciamo anche perché dovrebbe essere secondo noi un po più coinvolgente come cosa non è che dobbiamo obbligare o sempre chiedere noi ad altri parlate di questo cioè dovrebbe essere una cosa che se interessa si porta avanti altrimenti no e infatti in molte realtà presenti al fuori conferenza non hanno sottoscritto e non spingono il manifesto collettivo lo dicono chiaramente perché vorrebbero un'altra cosa una riforma più complessiva che però non riescono a proporre a livello di proposta di legge perché anche noi saremmo disposti a sottoscriverla ma non c'è questa proposta si rimane sul teorico un po come se rimasti sul teorico nella conferenza nazionale quella ufficiale quella ufficiosa che era partita come e dovrebbe essere dopo 12 anni questo grande momento doveva essere in realtà una conferenza sulle sostanze superfacenti sulla normativa invece è diventata subitissimo una conferenza sulle dipendenze cambiato e poi in realtà si è trattato molto di più della cannabis e poi con un mischione il classico mappazzone per citare un po i cuochi famosi ecco insomma un mappazzone che però non ha elaborato queste proposte di legge ha portato a dire ok va bene siamo oltre le dipendenze va bene oltre le fragilità va bene come ha ricordato magi la fragilità è nella legge questo è molto giusto lo sottolineiamo da diverso tempo siamo completamente d'accordo è bello che parlamentari lo dicano però dato che tutti poi hanno un po più o meno detto che sì effettivamente l'impianto normativo non va bene perché di qua perché di là sia il proibizionista sia quello antiproibizionista ma la proposta qual è perché altrimenti sembra semplicemente una passerella sì ok beh discutiamone ci sta ma forse serviva anche dare degli spunti per poi andare a parare su delle proposte di legge allora vedremo un po se servirà questa cosa per rilanciare in parlamento quantomeno il manifesto collettivo il ddl per antoni o almeno spingere un po a livello sociale questo referendum che è l'ultima spiaggia ormai che abbiamo perché abbiamo già detto diverse volte non risolve totalmente ma fa un grande passo in avanti ma non risolve totalmente servirà comunque la normativa qualora si vincesse il referendum che bisogna vincere perché altrimenti un'ultima spiaggia dobbiamo puntare tutto e stiamo puntando tutto su questo ma anche trovando poca collaborazione al comitato promotore ma va bene però bisogna capire che serve comunque una normativa e si può comunque anche tentare di fare una normativa nel frattempo anche perché magari c'è il presidente repubblica magari le elezioni anticipate eccetera eccetera potrebbe risultare di un anno referendum eccetera eccetera si può anche perdere il referendum speriamo di no ci impegneremo per no ma ovviamente non è facile anche vincerlo a livello di quorum e a livello anche di voti insomma è complesso e quindi bisogna elaborare una strategia anche parlamentare il manifesto collettivo è una legge una proposta di legge che noi vogliamo che sia quello che può essere un cardine per creare una proposta anche nuova volendo però che in cardine autoproduzione come detto mercato libero e sistema sanitario tutto questo e allora forse bisognerebbe spingere un po di più sulla proposta più che sulla teoria perché ormai bene o male abbiamo visto che anche il provvizionista magari dice bisogna comunque contrastare la droga bene e però il consumo aumenta così l'antiprovvizionista dice ok bisogna imutare gli altri paesi va bene come andiamo al sodo ecco questo chiediamo ma sicuramente possiamo dire dal nostro punto di vista che pur essendo un po preoccupati da come stava andando l'idea di questa conferenza come abbiamo detto che poi è cambiato nome non siamo stati invitati eccetera eccetera però bisogna essere onesti bisogna riconoscere che il messaggio che sta passando è comunque di rilanciare la tematica quantomeno sulla cannabis e sulla liberalizzazione della cannabis una nuova normativa questo sta uscendo ora spetterà anche alla società rilanciare ai parlamentari prendere questa situazione e portarla avanti vedremo cosa possiamo fare stiamo già cercando di inventarci qualcosa perché serve sempre provare qualche nuova strada anche a livello parlamentare anche perché ricordiamo cioè non è che si può aspettare che cada dal cielo la legge qualcuno deve fare proporre votare ecco lo sappiamo questo dobbiamo saperlo esserne coscienti sempre cioè non è che cade dal cielo e quindi il nostro ruolo ora è questo seppur un po delusi di cercare di elaborare nuove strategie cercare di lavorare perché comunque anche oggi parte le diciamo contrarietà di salvini gelmini e gasparri che puntualmente hanno detto no 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 assolutamente no gasparri è sicuro che non passa infatti conta probabilmente parlamentari perché lui si siede giustamente contro i parlamentari sa che è difficile che passi in parlamento però bisogna sempre provarci ok per forza assolutamente anche perché poi non si può aspettare sempre il cambio del parlamento perché altrimenti è sempre un puntare alle elezioni e allora poi bisogna schierarsi a livello partitico e si ricomincia l'astenzionismo è grande bla 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 e insomma di fatto questo è bisogna anche provarci subito però dicevo a parte questi contrari anche la meloni giustamente contra il suo punto di vista ci sono stati tanti favorevoli il ministro del lavoro abbiamo visto si è esposto andrea orlando ma anche tanti tanti nel movimento 5 stelle ma comunque l'asse col pd sembra almeno spingere questo vedremo se poi voti parlamentari come letto appunto da gasparri non ci saranno ma anche la donna stessa si sta cominciando a esporre molto di più certo dovrebbe magari concretizzare sottoscrivendo il manifesto collettivo l'abbiamo già detto vedremo vedremo un po come si sviluppa di sicuro c'è che comunque iniziare finalmente a parlare di liberalizzazione a livello nazionale e affrontarne i timori della parola perché in realtà è una parola normalissima a livello economico tranquillissima con delle normative specifiche e chiarissime forse adattissima alla cannabis proprio nel nostro sistema dove serve un controllo ma anche una tutela delle libertà personali fateci sapere cosa ne pensate noi ci vediamo presto con un altro aggiornamento sempre sul post conferenza ricordando che anche letta ultimamente in queste ore si è espresso dicendone parleremo nelle agora democratiche le abbiamo già fatte per chi ci segue abbiamo fatto anche l'intervento il video eccetera eccetera e abbiamo detto anche la nostra e tutti quasi erano favorevoli alla libretazione e alla proposta il manifesto collettivo da portare avanti anche da parte del pd vedremo fateci sapere ci vediamo nei commenti bella free readers fino alla libertà